Buongiorno a tutti amici di Professione LED, oggi con il nostro nuovo video vi vogliamo presentare un prodotto appena arrivato e appena messo in ventina sul nostro shop online professioneled.com Abbiamo un nuovo modello di striscia LED in 24V SMD5054 Quindi il LED sembra molto simile ai classici 5050 ma così non è, è un 5054 Ha una forte luminosità perché parliamo su 5 metri di 5600 lumen Una PCB ottima, molto nobile, con un rame molto nobile Questo quindi aiuterà la dissipazione del calore e anche la durata, la massima durata della striscia Viene proposta in tre colorazioni, bianco caldo 2008, bianco freddo 6000k e bianco naturale 4005 Noi oggi vi vogliamo far vedere il bianco caldo 2800k che in tanti ci avete richiesto questa colorazione un po' più calda In modo tale da poterla mettere in ambienti casalinghi La accendiamo Ecco qui, vedete com'è di una bellissima colorazione bianco caldo 2800k Questa striscia produce ben, abbiamo detto, 5600 lumen e assorbe solamente 80 watt Quindi si discosta poco dalle classiche 14,4 watt metro Ma mentre le 14,4 watt metro normalmente riescono a produrre 4.800-5.000 lumene Questa arriva fino a 5.600, quindi veramente un ottimo prodotto Come sempre nella descrizione vi lasciamo il link della striscia e anche del trasformatore che abbiamo usato per accenderla Se non siete ancora iscritti al nostro canale vi ricordiamo di iscrivervi E dopo l'iscrizione di cliccare sulla campanella così sarete avvisati ogni qual volta noi mettiamo un nuovo video sul nostro canale Grazie dell'ascolto e al prossimo prodotto, arrivederci